Manuel Ducci dove mi porti? Ti porto a fare i due muri che sarà poi la prima prova speciale della gara di enduro del Colantino Buona! Che sarà il 20 febbraio Prego maestro Grazie a tutti Grazie a tutti Qua l'albero rompe un po' il cazzo Eh sì perché ce l'hai proprio davanti Però ho già visto che era malato e secco vero? Grande l'albero rompe Quai l'albero rompa? Quai l'albero rompe più? Grazie a tutti. Bella, non l'ho fatto in tempo. Bellissimo. Qui te la scaveranno tutta. Qui te la scaveranno tutta. E' fantastico. E' un trail su cui faremo anche i corsi Gravity School perché si presta davvero bene. Cosa ci fai fare dopo? Dopo andiamo a fare il bruciato che sarà un'altra delle prove speciali della gara. Di nuovo un sentiero scorrevole a tratti pedalato. Molto divertente. E il nome mi piace anche. Quindi a dopo raga.